Alla settimana dell'alta moda di Parigi, alla sfilata di Iris van Herpen, il pubblico fa un salto sulla sedia quando una misteriosa statua comincia a muoversi, propagando scariche elettriche. Subito dopo è il momento degli abiti e delle modelle. L'elettricità è il biglietto da visita di questa collezione, i cui lunghi abiti, a volte scuri, a volte dalle tonalità più chiare, sembrano sprigionare scintille in ogni direzione. Ed ecco che i vestiti e di conseguenza il corpo di chi li indossa assumono subito un aspetto aggressivo e nervoso. L'originalità delle forme trapezoidali conferisce ai capi forte grinta, senza rinunciare a sensualità e femminilità. L'idea della stilista olandese era stupire il pubblico, con uno degli spettacoli più originali che Parigi avesse mai visto. In prima fila, alla sfilata di Dior, Sigourney Weaver, Jessica Alba e Laetitia Casta. Un giardino in un giardino, quello delle Tuileries. Ecco la location scelta dallo stilista. Il tema floreale torna su molti abiti, spesso dai colori pastello. Ecco poi che vengono presentati i lunghi capi dai toni chiari, con ampie scollature dal bordo più scuro. Trovano spazio però anche vestiti dal taglio più classico e giacche con ampi risvolti lilla. Arriva anche il momento di pantaloni viola e top floreali, con lunghe giacche rossofuoco, molto simili a un mantello. Gonne a due strati vengono portate con disinvoltura sotto bustini color crema e originali bluse gialle che arrivano all'altezza del seno. E poi ancora tanti fiori, dei colori più diversi, ricamati soprattutto sulle gonne, a volte in rilievo altre solo sulla superficie. L'originalità delle forme traspare soprattutto nei lunghi abiti rosa, molto simili alla coda di una sirena. Tutt'altra atmosfera alla sfilata di Alexi Mabie, appena promosso ai ranghi dell'alta moda. Indiscusso protagonista sugli abiti, il pizzo, presente ovunque. Sui bustini orlati di arabeschi e con grandi pieghe, come su camicette con due nastri che si incrociano sopra il seno. Abiti con gonne dalle forme più squadrate e rigide che si aprono con un corpetto simile a una gorgera. Gonne cucite con cascate di tulle o pieghe di organza. Arrivano poi abiti chiari con pieghe svolazzanti sulle caviglie, vestiti stretti in vita e capi dalle gonne con allegri sbuffi di pizzo. Un sontuoso vestito con un'enorme gonna arancione mostra lo spirito di una collezione che ricorda gli abiti preziosi delle bambole d'altri tempi. Grazie.